L'Atalanta è una squadra che ha una sua identità ben precisa, che ha giocatori sia Spinazzola a sinistra, ha messo che giochi a sinistra e ci sia Conti a destra, sono due giocatori che spingono molto, due giocatori che si propongono molto, magari in fase difensiva possono avere alcune lacune ma che sono compensate bene proprio da questa proposta continua che danno. A sinistra sono bravi, tra Chessy, lui e Gomez a scambiarsi molto e quindi una volta a trovarsi sulla corsia esterna, una volta a trovarsi anche interno Spinazzola piuttosto che poi proporsi alle spalle di Gomez. Ormai hanno fiatamento da questo punto di vista ma soprattutto hanno la convinzione che ciò che hanno fatto e gli ha dato una grande sicurezza e noi altrettanto sappiamo che il loro percorso è stato importante proprio perché hanno raggiunto questa consapevolezza. Noi dobbiamo ancora raggiungere questa consapevolezza e affrontare un avversario come quello di domani, comunque con giocatori giovani a parte il discorso di Gomez che è un po' il giocatore più rappresentativo che comunque ha una gamba micidiale, non è che stiamo parlando di un giocatore di 37 anni ma un giocatore ancora nel pieno della sua forza fisica, della sua maturità e noi dobbiamo interpretarla dal punto di vista atletico proprio con grande intensità, con grande determinazione perché se no questa è una squadra che fisicamente ti sovrasta. Ci sono delle differenze anche da questo punto di vista, che non vuol dire essere scarsi noi, vuol dire però saper riconoscere il loro valore, i loro meriti da questo punto di vista e noi cercare il più possibile di crescere le cose le trasmette. Poi dopo dipende da chi le riceve, farne sue e quindi interpretare poi le cose. Io ho il mio compito e questo e quindi cerco di farlo oltre ad insegnare loro come si deve stare in campo e che cosa si deve fare in campo. Poi dopo i risultati parleranno.